Dopo 22 anni il segretario generale della UIL Marche, Graziano Fioretti, lascia la guida del sindacato. Il suo successore sarà indicato dal Consiglio regionale che si riunirà venerdì 24 luglio a Iesi. Claudia Mazzucchelli è la nuova segretaria generale della UIL. Il primo obiettivo deve essere il lavoro. Questa è una regione in cui il tasso d'occupazione è più basso rispetto anche alle altre regioni italiane, anche dopo Covid. Quindi noi abbiamo necessità di rilanciare l'attività imprenditoriale e il lavoro nella nostra regione e dobbiamo farlo in maniera seria, non abbassando le tutele, ma lavorando insieme per l'obiettivo di far ripartire la nostra regione. Il primo obiettivo deve essere il nostro obiettivo di far ripartire la nostra regione. Il primo obiettivo deve essere il nostro obiettivo di far ripartire la nostra regione. Il primo obiettivo deve essere il nostro obiettivo di far ripartire la nostra regione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!